Fate una cosa, vi fate spiegare che ci sono la vita, fate una vita, ragazzi non ci sentite abbastanza, se non dovete risultare fatelo bene, non ci sono più di compagni di una volta, un'altra sera, che finirà proprio i tempi social di notte, fattano ragazzini, figli di papà che non hanno un problema di andare a donare la maniera, perché non ci pensano più di fare la maniera, e finirono a vincere la toglia, non a vincere la toglia, ma adesso c'è il grande fratello dell' shortcuts stasera, E' bello della demografia, ma bene la critica, se è rispettosa, basta che non rompano le scatole agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine che fanno semplicemente il loro valore. Quindi orate, criticate, salperate, stentagliate, portate rispetto alle forze dell'ordine.